E quindi il dato oggettivo dell'abbassamento di certe tipologie di creato su Milano è la conseguenza di un lavoro che sta facendo Comune di Milano insieme ad altri enti da tanti anni Amici e amici di On The Matters, bentornati da Mattia e Mattia Welcome back Bentornato anche a te Matti Tutto a posto? Tutto a posto, una buona settimana? Sì dai, niente male, niente male Bene, bene Allora, di solito sei tu che mi fai le sorprese, no? Quando volevo parlare di chirurgia estetica, hai portato il chirurgo plastico, volevo parlare di altre cose Hai portato un sacco di sorprese Un sacco di amici Io so che tu sei appassionato di crimini, di cold case Da morire Di cose irrisolte E allora questa sera Matti la sorpresa te la faccio io Perché abbiamo una criminologa forense Che possiamo dire anche collega, non perché siamo criminologi Già dalla job title mi vengono i brini Perché ha un podcast sui crimini Ma adesso ce lo facciamo raccontare da lei Perché stasera on the matters con noi c'è Silene Finelli Benvenuta Silene Grazie Mattia e Mattia Soprattutto dell'invito e che onore essere da questa parte del microfono per una volta Capito perché ti ho detto che è navigata Perché è una podcaster Perché Silene Oltre a fare il lavoro da criminologa e presto da avvocato Giusto non voglio spoilerare Esattamente Ma ha un podcast che si chiama Dall'altra parte Dove racconta Sono storie di persone comuni Le quali da un giorno all'altro vedono la propria vita stravolta Perché commettono o vengono accusati di gravi crimini Incredibile Matti Allora io da qui vorrei partire Perché noi poi facciamo Silene sempre focus un po' su Milano Poi ne parleremo Si dice che Milano è insicura Che ci sono i criminali Che ci sono gli omicidi e tutto quanto Ma andiamo con ordine Andiamo con ordine Io partirei proprio dal tuo podcast Perché in una delle ultime puntate Tu racconti di questo Orafo di Milano Che detto così è una figura spaventosa Ma tu racconti un po' la sua storia E di fatto poi racconti un'altra verità Perché lui è finito in carcere È andato a processo C'è tutta la storia processuale dietro Ma tu di fatto racconti una seconda verità Appunto proprio dall'altra parte Quindi in tutti i casi O in quelli che tu ti sei trovata Ci sono sempre più verità Nei casi in cui tu ti sei trovata a lavorare Io ti ringrazio Mattia Perché sei uno dei pochi Che ha capito il senso profondo del podcast Scherzo Saremo sempre di più Tra colleghi ci si intende per questo Perché dall'altra parte Non è il solito podcast true crime Ha come obiettivo quello di porre l'ascoltatore Proprio nella prospettiva del colpevole O del preso in totale E quindi nel caso di Edoardo Episodio 5 del mio podcast Dall'altra parte Edoardo è un Orafo Ha sempre svolto il suo lavoro È un cittadino modello Certo E da un giorno all'altro Insomma si trova nelle dinamiche carcerarie Perché viene arrestato Trasportato a San Vittore E vive un incubo Perché lui ce lo racconta come un incubo E quindi il tema è proprio quello Chi ce lo dice? Che da un giorno all'altro Non potremmo trovarci Anche noi dall'altra parte Nel suo caso La detenzione di un quantitativo Particolarmente ingente Di sostanza stupefacente Nello specifico MDMA L'ha portato a vivere questa esperienza Però sono mille le situazioni Nelle quali possiamo incorrere tutti Tutti i giorni Certo Questo è uno spunto bellissimo Perché io mi sono sempre chiesto Nel percorso Nella vita di ognuno A volte siamo portati a fare delle scelte Anche a volte inconsapevolmente Prendiamo delle strade Che poi inevitabilmente Seguono e definiscono Il nostro percorso di vita Chissà cosa sarebbe successo Se magari in un'occasione specifica Avessimo preso una decisione diversa Nelle sliding doors Esatto Cioè se quella volta che dovevo La dico a caso totalmente Portare il fumo a casa di un amico In motorino Ed era un quantitativo Punibile Ok Se l'avessi fatto Sarei qui oggi La mia vita come sarebbe cambiata Forse non ci sarebbe on the matter Questo era un esempio facile Perché era spaccio di droga Ci voleva poco Però come questo ci sono una serie di altre Di altre scelte Assolutamente Poi il discorso è questo Un po' L'abbiamo anche Secondo me accennato Ed è Anche ridondante Ripeterlo Ma non esiste mai una sola verità Questo è importante Assolutamente La verità che viene ricostruita In un'aula giudiziaria Non è Può essere Ma non è detto Che sia la verità assoluta Poi esiste una verità assoluta Io non credo Facciamo un esempio banale Questo è un quesito Per chi ci escuta Ed è molto affascinante Sì La fine di una storia d'amore Mi è capitato a tutti Ognuno racconta la sua verità Poi qual è La versione Quella Più vicino Alla verità assoluta Secondo me Non esiste Ognuno ha la sua verità Quindi io voglio Voglio indagare La mente di queste persone Voglio scoprire Le loro verità Una delle cose Che mi affascina Di queste cose processuali Che è proprio quello Che dici tu Che la verità Che si affronta All'interno delle aule Del tribunale Adesso non mi ricordo Com'è la definizione Ma è la realtà Che si basa sulle prove Che in quel momento Uno ha Quindi non è Come dici tu La verità assoluta Che prende In esame Tutta la vita Di una persona O tutti gli elementi Ma si basa Proprio sulle prove E quindi ci sono Delle volte Cioè confermano In cui le prove Rendono colpevole Una persona Che in realtà È innocente E questa è una tematica Veramente estremamente Interessante Poi i casi Che sono diventati Mediatici Per citarne qualcuno Erba Il caso di Sara Scazzi Adesso sono tutti Conosciutissimi Anche per le serie Recenti Che sono uscite Eh ma in quel caso lì La prova Schiacciante La prova determinante Dipende sempre Da come viene interpretata Poi ci sono prove Come il DNA Che hanno Un'attendibilità Scientifica tale Da poter far presumere Con un alto grado Di probabilità Che quel soggetto Sia il soggetto Che ha commesso Quel determinato fatto Vi faccio un esempio E questo è uno scupper On the matters Mi sono trovata Ero giovanissima praticante Mi sono trovata Ad affrontare Questo caso Che mi è rimasto Dentro È il caso Di due gemelli I quali lavoravano Con un loro amico Per una società Facevano i giardinieri Insomma Giornata normalissima Di lavoro Sono tutti Sul loro camioncino Telecamere Dell'autostrada Quindi è tutto documentato Dalle telecamere Dell'autostrada Non si comprende Se il guidatore Si è incorso In un malore Se ci sia stato Un guasto tecnico All'auto Ma taglia Esattamente La carreggiata Da sinistra Verso destra Questo furgoncino Va a sbattere Ad altissima velocità Contro un guardrail E purtroppo L'impatto L'incidente Causa la morte Di un ragazzo Di questi tre Uno di questi tre ragazzi Gli altri due Erano gemelli E lì Per ricostruire A proposito di verità processuale Che poi non è una verità assoluta Per ricostruire Già mi sta stuzzicando la mente Penso di capire Dove vuoi arrivare Ma non voglio spoiler Per capire Che fosse alla guida Chiaramente La polizia scientifica Ha dovuto fare Una serie di accertamenti Certo E i gemelli Avevano il DNA Identico Identico Anche lì Come ha scelto la polizia scientifica Come ha scelto il PM Di decidere che Erano alti uguali Erano molto simili Tale fratello Era colui Che doveva essere imputato In quel procedimento penale Per omicidio stradale E quell'altro Doveva essere anche lui In qualche maniera Persona offesa Premesso Hanno subito tutti Gravi danni Da quell'incidente E lì E' stato super interessante Alla fine Del processo Il giudice È stato molto coraggioso Perché Per il codice penale Una sentenza assolutoria Si dice che Al di là di ogni ragionevole dubbio Il giudice Debbe avere Nel dubbio Se il giudice ha un dubbio In teoria Dovrebbe assolvere Ok Il primo comma Dell'articolo 530 Del nostro codice Di procedura penale Fondamentalmente Se il giudice Non ha alcun dubbio Assolve Ma La formula dubitativa Che ha il comma 2 Quindi il nostro legislatore Ce lo dice Attenzione Caro il mio giudice Tu decidi Della vita delle persone Per cui Anche se c'è un piccolissimo dubbio Tu devi assolvere Quella persona E in questo caso Non essendo riusciti Nonostante il DNA Nonostante le indagini Iper approfondite Avendo questi ragazzi Realmente Un buco nero Perché Sono stati gravemente Compromessi Dall'incidente Ha avuto il coraggio Di assolvere Quindi anche la prova scientifica Non è assoluta Questa cosa è incredibile Tu hai la certezza assoluta Che qualcuno Abbia potenzialmente commesso Al netto di quello che dicevi Del problema tecnico Che evidentemente Non è stato accertato Altrimenti L'avremmo già risolta Certo Però effettivamente È clamoroso Scusa Loro non erano in grado Quindi di poter dichiarare Chi fossero E di riferire Chi fosse alla guida Ok Non si ricordavano nulla E lì Capito La verità giuridica Che è l'unica cosa Che conta Certo È quella che determina La vita Delle persone Quindi di fatto Cioè È una decisione soggettiva No Non dovrebbe essere soggettiva Ma però se io ho un dubbio Perché non ho abbastanza prove Magari Parti dal presupposto Che il giudice Dovrebbe essere terzo E imparziale Quindi dovrebbe porsi Come spettatore Di tutto quello Che poi viene ricostruito In aula Perché il giudice Arriva in udienza Il suo fascicolo È vuoto E la prova Viene costruita in aula In questo caso Ha dovuto vedere i video Ha dovuto sentire i testimoni Che hanno soccorso Che hanno visto I ragazzi Ancora prima Che arrivassero Poi i soccorritori E si intervenisse E si accertasse Purtroppo la morte Di questo terzo ragazzo E quindi il giudice Terzo e imparziale Deve cercare Di essere Il più oggettivo possibile Poi mi dici È sempre così? Eh Siamo umani E qua Ma invece Vogliamo sperare Che lo sia Mettendosi dal Dal tuo punto di vista No Avvocato difensore O nel momento in cui Ti travi di fronte A una persona Che ha commesso Un crimine Quando tu decidi Di difenderla Hai la certezza Che questa persona Sia innocente Per cui la stai difendendo Per provare La sua innocenza Questa è una domanda Che Almeno Una volta a settimana Mi viene fatta Ma sono sempre Contentissima Di rispondere Che poi è Difenderesti mai Un colpevole Eh Più meno Allora Io ho avuto la fortuna Di avere due grandi maestri Due grandi penalisti E mi hanno insegnato Una verità In questo caso esiste La verità assoluta La verità è che Nella difesa È sempre meglio Difendere un colpevole Rispetto a un innocente Perché? Perché quando difendi Un colpevole Tu sai Che puoi limitare i danni Ed essere il suo difensore Quindi fare in modo Che Fondamentalmente Vengano rispettati Tutte le normative E fare in modo Che la persona Sconti il minimo Della pena Poi sta la bravura Dell'avvocato penalista Convincere il giudice Quando tu difendi Un innocente E sai Che la persona Che sta difendendo È un innocente Cambia tutto E noi avvocati Ancora di più Siamo umani Certe vicende Poi le prendiamo Particolarmente a cuore Spoiler Per l'episodio 6 Per il mio podcast Eh ragazzi Ma quanto è brava Ma quanto è brava Ragazzi Uscirò il 27 novembre Io Per la prima volta Non sono riuscita A Essere Fredda E distaccata Perché queste persone Io nello specifico L'ho intervistata una Sono tre militari Che hanno subito Dieci anni di processo Da innocenti Un anno e mezzo Di custodia cautelare Da innocenti Tre cassazioni La terza cassazione Ha avuto il coraggio Di pronunciarsi Anche nel merito Cosa che la cassazione Non fa mai Sentenza Dopo dieci anni Imputati Sono stati assolti Alla fine Perché non hanno Commesso il fatto E quei dieci anni Nessuno glieli ridà Perché non hanno Ma perché il fatto Non è avvenuto Perché non hanno Loro non hanno Commesso il fatto Si trattava di Corruzione e concussione Ok Ok Sì sì E quei dieci anni E cosa devi fare Detenzione preventiva Quali sono i termini Per la detenzione preventiva Allora partiamo Dal presupposto Che non tutti i reati Non per tutti i reati Se c'è il rischio Mi sembra Che ci ripeta Allora Le esigenze cautelari Solitamente sono tre Ok Il primo Come dicevi tu È la possibilità Che un soggetto Possa nuovamente Commettere altre tipologie Di reato Inquinare le prove Ok Quindi nel momento In cui siamo ancora In una fase di indagini E il procuratore O chi per lui Quindi la polizia giudiziaria Sia nella condizione Di dover svolgere Altri accertamenti Preferisce collocare Il soggetto indagato O agli resti domiciliari O nei casi più gravi In carcere E Inquinamento delle prove Reiterazione del reato E pericolo di fuga Ok Quindi qualora Un soggetto Abbia con me Nel caso in cui abbia commesso Dei reati particolarmente Gravi Salvo Poi Qua entriamo in un'altra tematica Ma abbiamo poco tempo Ok Perché C'è tutta una tematica Della Costituzione Della libertà di movimento Però in base a queste tre Pericolo Esatto Il pericolo di fuga Giustifica L'applicazione Di una custodia cautelare Che può Che ha una durata massima Sì Poi dipende da reato a reato Qua anzi Vuoi entrare un po' Nel codice No 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 Lo dicevo Lo dicevo Perché poi magari qualcuno Si ma allora Dieci anni di processo Un anno e mezzo di cautelare Perché non nove anni di cautelare Per esempio No Parti dal presupposto esatto Che La custodia cautelare Non può mai Eccedere I due anni Ok Ecco questo Secondo me A grandi linee Proprio semplificando al massimo Non me ne vogliono tutti i penalisti No 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 Va bene Ma ci sta Ci sta Ci sta E beh questo comunque Fa parte Il vero Il problema secondo me Qua non è più Chi gli ridà questi anni Il vero la domanda è Perché un processo Dura dieci anni Forse Beh in questo caso Devo dire la verità Non è tanto colpa del sistema Non è tanto colpa del sistema Bensì È colpa della complessità Del fatto in sé Perché Mi dispiace Spoilerare così tanto Ma hai un vostro scopo Spoilerare Però Qui Il problema è stato Che Un superiore Di questi tre militari Era colluso Con un'importante Famiglia mafiosa Operante sul territorio Milanese Quindi Per avere delle Agevolazioni Quindi per avere Degli sconti di pena Decide Di chiamare Incorreità Quindi di incolpare Anche i tre militari Che stavano Al grado sotto di loro Avvalorando La tesi della procura E quindi Oggettivamente Ottenendo dei vantaggi Processuali E dei vantaggi In termini di Condanna Che sapeva Di dover ricevere Perché il fatto L'aveva commesso Certo E in questo caso Ricostruire una verità Solo sulla base Di un derelato Di un qualcosa Che ha detto Qualcun altro Ragazzi Ce ne va Ce ne va Che la prova Non è sempre Quella scientifica In casi del genere Come fai? No 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 Assolutamente Essere umano O essere umano? Senti Sirene Vorrei spostarmi Visto che hai parlato Abbiamo parlato Dei tre casi Che ci hai raccontato L'orafo di Milano Era di Milano Adesso hai appena parlato Di questa famiglia Mafiosa milanese Vorrei andare un po' Sulla milanesità Del nostro podcast Per cui Perché se no Gli ascoltatori Si sentono persi Perché se non trovano Il gancio Con la City Ci sono un sacco Di occasioni In cui si dice Che Milano Non è sicura Che il tasso Di criminalità È altissimo Che non si riesce Più a vivere Influencer Che denunciano Di essere stati Rincorsi Minacciati Minacciati Picchiati E tutto quanto Noi abbiamo sempre Dei dati Da cui partiamo In questo podcast E oggi Non siamo da meno Abbiamo i dati Dell'Istat Abbiamo i dati Del ministero Dell'interno Allora Al di là del fatto Che ci ha inviato Direttamente Che ci ha inviato Direttamente Però in realtà Ci sono Nei dati storici Che riguardano La criminalità A Milano Sicuramente c'è Un aumento Dei delitti Denunciati dalla polizia All'autorità giudiziaria Ma in realtà Ci sono dei reati Sì che è la metrica Fondamentale Esatto Dei reati Per esempio L'omicidio A Milano Che Del 2023 Su 2022 È diminuito Del 20% E negli anni È sempre sceso Mentre invece Il dato nazionale È in aumento Quindi ci sono Dei dati Un po' in controtendenza Su Milano Che dimostrano Che sì Certo Ci sono Violenze sessuali Ci sono estorsioni Ci sono percosse Altri reati Come per esempio L'omicidio Che diminuisce Tu dal tuo punto di vista Di avvocato Come la vedi Questa cosa Anche personale Posso dire Esatto Per tua conoscenza diretta O indiretta Ma anche per tuo Vissuto come donna Che vive la città Come la vedi Questa situazione Allora È una domanda bellissima Come donna Devo dire la verità Non mi sento mai sicura A girare Milano di notte Però Devo dire Una cosa Molto importante E sfrutto anche lo spazio Milano È Veramente Avanti Da tanti Per tanti aspetti Soprattutto Per quanto riguarda La violenza Nei confronti delle donne Tu mi citavi Un calo Nei casi di omicidio Tantissimi omicidi Perché è un dato oggettivo Sono commessi Per mano Dei compagni fidanzati Abbiamo Un caso recentissimo Giulia Tramontano Ad esempio Stando Rimanendo su Milano Queste Esistiva prima Secondo me Un numero scuro Molto più elevato Sulla violenza Domestica La violenza subita Da parte di queste donne Milano È all'avanguardia Perché Comune di Milano Grazie per la sala Sì E comunque Tutti Gli operatori Del settore Ma A livello proprio Anche procura Ordine degli avvocati Di Milano Stanno tutti lavorando Sulla prevenzione E quindi Il dato oggettivo Dell'abbassamento Di certe tipologie Di creato Su Milano È la conseguenza Di un lavoro Che sta facendo Comune di Milano Insieme ad altri enti Da tanti anni Il numero verde Il 15-22 Che tutti conosciamo Addirittura Qualcosa che In pochi sanno Poi qui In realtà Tematica Codice rosso Codice rosso Cos'è? Tutti i reati Che possono essere Reati di stalking Violenza sessuale Tutti i reati Nella maggior parte Dei casi A danni Di donne E giovani E giovani donne Quando una giovane donna Trova il coraggio Di denunciare In realtà Non sarà più sola Perché ha tutta una rete Di supporto a Milano Cosa che magari Non succede A Campobasso Esatto Perché Stà a caso Perché Sì Esempio La donna Che viene molestata O viene Povera Stella È vittima Di una violenza sessuale Sin dal momento In cui Si trova Ad essere visitata In SWS In Mangiagalli Viene attivato Un meccanismo Per il quale Lei non dovrà Se vuole Più tornare a casa Avrà assistenza psicologica Avrà assistenza materiale E quindi C'è anche un incentivo A denunciare E forse A prevenire Certi tipologi di reato Le donne Che subiscono Tra le mura domestiche E violenza Anche davanti A figli minori Nella maggior parte Dei casi Adesso trovano La forza Di denunciare Perché Non hanno più Paura Della violenza economica Una donna Che È totalmente Dipendente Dal punto di vista Economico Dal proprio marito E che Subisce Violenze Gravi Anche in presenza Ripeto Di bambini Oggi Si può sentire Libera a Milano Di denunciare Perché Una volta che La polizia giudiziaria Riceve la notizia Di reato Le informa subito Cara mia signora Se vuole Può essere immediatamente Collocata in questa casa Ed essere protetta C'è una tempestiva Rete di intervento Di protezione Che evidentemente Era assolutamente Quello che mancava E quello che manca Come sottolineavi tu In questo momento In tantissime In tantissime aree geografiche Ma infatti Il tema della denuncia Secondo me È importante Da sottolineare Perché in un'altra classifica Che era uscita Qualche mese fa Forse a settembre Del sole 24 ore Che metteva Milano In cima alle città Meno secure Ma in realtà Lo faceva per il numero Delle denunce Che venivano fatte Che secondo me In realtà Certamente Cioè Tante denunce Corrispondono a tanti Reati Tanti Ma la domanda Poi è quella Sempre quella Quante persone Non denunciano Esatto Per cui il fatto Che a Milano Forse si denunci di più Perché c'è Come dice Silene Una consapevolezza Maggiore Che nel denunciare Poi si ha Una rete di protezione Maggiore Che quindi Ti aiuta E ti supporta Sì Concreta Sì 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 Concreta Milano è vero Può essere una città Non sicura Però Milano È l'avanguardia E Milano Permette realmente Di uscire da certi Circoli viziosi E spesso mortali Senti ti faccio Una domanda Indiretta Sempre su Su questo tema Ovvero sul trend Dell'aumento Della percezione Della violenza In Milano Ma forse Più in generale Proprio a livello nazionale Secondo te I social network Certi tipi Anche di contenuti Se magari te ne vengono in mente Influiscono direttamente Sull'atteggiamento Negativo Delle persone Per esempio Notiamo Un aumento Dei reati Tra i giovanissimi Che poi Con i nuovi decreti Penali Eccetera Porta a un'incarcerazione Maggiore Dei minorenni Eccetera Ma il punto è Ci sono più minorenni Che commettono reati Io cerco di spiegarmela Questa Questa panoramica Tu Hai un'idea Hai un percepito Hai Magari anche Non so Del trascorso In questo senso Allora Ci sono due grandi verità Che è cambiata la società Come dice mio papà Che ha 60 e passa anni E questo avviene da 200.000 anni Sì no Lui dice Probabilmente Se io fossi stato adolescente In quest'era Sarei transitato dal beccaria Quindi dal carcere minorile Perché tante cose che facevo Forse prima venivano gestite In maniera diversa L'altro lato oggettivo Come dicevi tu Che il mondo dei social Anche il mondo dei videogiochi Un po' E questo è un po' L'approccio criminologico Mi sposto un po' Dal mio ruolo di difensore E entro in una tematica Un po' più criminologica È quello che I giovanissimi Tanti nativi O comunque condizionati Dal periodo covid Che è stata una detenzione forzata Si sono chiusi Completamente All'interno di un mondo virtuale Il mondo dei videogiochi Soprattutto Un mondo che tende a spersonalizzare E a far venire meno Quella che è l'empatia Certo Cosa ci differenza Da Una cosa O spesso No, gli animali sono anche più sensibili Però È l'empatia Certo Quindi Perché un ragazzino Di 13-14 anni È violento Ma Violento Non Verbalmente O La scazzottata Che può capitare O che è capitato Ma magari a mio padre Tornando all'esempio di prima Ma è violento Al punto tale Di girare Col coltello nel cappellino Ed essere pronto A coltellare 15-20-30 volte Un coetaneo Perché? Perché? Perché si è perso quel senso di umanità Perché purtroppo lo schermo ci fa da filtro Ci spersonalizza E fa in modo che questi ragazzini sempre più giovani Soprattutto in un'età particolarmente delicata In cui si fa fatica a gestire certi impulsi Perché a tutti capita di essere particolarmente arrabbiati Poi cos'è che ci differenzia Differenzia Da Un Omicida È La capacità di gestire quell'impulso Certo Esatto Io Poche volte nella vita sono stato d'accordo con una persona come con te In questo momento Ma vero Ma infatti Visto che abbiamo qui Una persona Ma In due figure professionali L'avvocato difensore E il criminologo Alla Silene è criminale Vorrei chiedere Ma Criminale? O criminologa Criminologa scusa O criminale non si sa mai Secondo me tutti abbiamo una componente Una componente E infatti proprio questa è la domanda Il mio è stato un lapsus Ma Secondo te C'è una componente innata Nella Criminosità Criminologia Di una persona Cioè ci sono persone Che ce l'hanno dentro Di natura E altre no E che quindi sono più predisposte A commettere Un omicidio O qualcosa Di uguale gravità Allora partiamo dal presupposto Che come per la malattia mentale Facendo un esempio Un po' diverso C'è sempre Può esserci Una componente biologica Una predisposizione Ok Quindi quando parliamo di sadici Quando parliamo di sociopatici Che incorrono in certe tipologie di reate È più facile Che un sociopatico O con un sadico Commettano un omicidio violento Quindi può esserci Può esserci una componente biologica Però fa tanto Il contesto sociale Certo L'educazione E soprattutto Io lo dico sempre L'esperienza Del singolo individuo Prima Mattia Mi faceva una domanda A te è capitato Di affrontare casi Soprattutto di minori violenti Recentemente Mi è capitato E da un caso Vi confesso Che non mi fa dormire la notte Di ricevere questo ragazzo Giovanissimo Di 14 anni Il quale Una notte Decide Di rubare l'automobile Alla madre Di guidare Senza patente Quindi lui ha imparato a guidare Incorre in una Rissa Nella scazzottata da bar Con dei coetanei I quali Si difendono Lui decide Di rincorrerli E tentare di investirli Con l'automobile Della madre Ok Fuori dalla realtà Completamente Fuori dalla realtà E quindi Io ricevo questo ragazzo E provo A capire Cosa gli passi Per la testa E lui mi dice Io mi devo difendere La non percezione Della gravità Del fatto in sé E questo ragazzo Purtroppo Non capisce I suoi atteggiamenti violenti E è diventato sempre più violento Anche nei confronti Della mamma Quindi 14enne E lui dice Sapete quando sono cambiato? E tutto torna Quando sono stato obbligato A stare In casa Rinchiuso E io Adesso Voglio uscire Voglio divertirmi Di notte Voglio fare quello che voglio E nessuno può fermarmi Sono bombe Ad innesco Quindi Non possiamo lavorare Sulla componente biologica Non possiamo lavorare Su quello che può essere Un contesto sociale Possiamo lavorare Sull'informazione Possiamo cercare Per farla durare il doppio Questa puntata O fare più di una puntata Ma la domanda Proprio su questo tema è Secondo te Uno degli elementi Che magari provocano Soprattutto nei giovani Questo Sentimento Di violenza O di non riconoscibilità Dell'essere violenti Può essere La spettacolarizzazione Della criminalità Attraverso le serie tv Al di là dei videogiochi Tutte le serie tv Che vengono adesso Fatte sui grandi criminali Ma anche le serie tv Una delle mie serie tv Preferite È le regole del delitto perfetto Dove Praticamente ti fanno Un manuale Su come scappare Sì ma tu perché Poi non replichi Quelle pratiche Perché sei in grado Di capirne Gestire l'impulso Cazzo È quello che dico Cioè alla fine Tu razionalizzi Dici sì vabbè Però questa cosa qui Non va rifatta Certo ma noi Noi abbiamo anche Forse un tipo di educazione E un tipo di Di passato diverso Quello che dice Silene È che i giovani Che commettono oggi I reati Non hanno la percezione Della gravità Di quello che stanno commettendo E quindi la mia domanda è Secondo te Per spirito di emulazione O per altro Sono condizionati Da queste cose Assolutamente Poi in un mondo Nel quale Mostrare sui social La qualunque Mostrare sui social Anche Cioè ragazzi Esibizionismo estremo Sì Sì ma Facciamo il caso In un caso Conoscono tutti I famosi youtuber Che andavano Con la loro auto A 200 all'ora E hanno provocato La morte Di quella povera E la mamma E la bambina Ragazzi Sì purtroppo Sì È il discorso Che facevamo prima La spersonalizzazione Esatto Secondo te In quel caso Banalmente Quello era youtube Si può ritenere Corresponsabile Banalmente Per non aver bloccato Il contenuto Questa è una domanda enorme Che l'unione europea Si sta chiedendo Bravissimo Bravissimo E stanno cercando Di capire come fare Io Per me Corresponsabile Sì Io ti dico Dal mio punto di vista Assolutamente Dal mio punto di vista Sì Anche perché Un ragazzino Giovane Che identifica Una figata Un qualcosa Di così pericoloso Certo Identifica una figata Il vedere Soffrire qualcuno Ridotto All'osso È un concetto Molto più Sarebbe Veramente difficile Da sviscerare A fondo Però è questo È questo Non siamo più umani Siamo sempre meno umani Dobbiamo essere più umani È incredibile però Questa cosa Cioè manca proprio La consapevolezza Di Di avere dei limiti Ma con la certezza Che comunque Le soluzioni ci sono Sappiamo dove dobbiamo agire Esatto Per cambiare Le cose Le prospettive E quindi anche poi Le conseguenze Assolutamente Di certe situazioni Di certe azioni Silene Grazie per averci portato Con te dall'altra parte Grazie a voi Dell'invito ancora Ci vediamo presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti